Il Premio Nazionale Borsellino rende omaggio alle vittime della Shoai dei totalitarismi, con un ricco calendario di eventi in programma in Abruzzo in occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio. Educare i giovani alla sensibilità resta uno degli obiettivi fondamentali del premio, come spiega al TG8 il professor Graziano Fabrizi, referente per le scuole del Premio Borsellino. Accadrà quello che il Premio Borsellino ormai fa da 32 anni, incontrare i ragazzi, commemorare, cercare un punto di riflessione rispetto a quello che è stato e quello che ancora oggi purtroppo accade. Tante sono le iniziative che il premio ha così disseminato in tutta la regione, partiremo domani con Teramo per poi arrivare a Pescara, ma anche incontrando i centri e le città di Pineto, Corropoli, Nereto, per incontrare i ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado, ma anche gli studi comprensivi, perché conoscere è un esercizio fondamentale per ricordare e far sì che certe cose non possano riaccadere. Per i ragazzi come si può spiegare questa giornata della memoria? Noi dobbiamo necessariamente aggiornare i nostri linguaggi e quello che il premio fa, arrivando a una riflessione che parta dalla testimonianza, arrivi alla musica, arrivi al teatro. Quindi individuare e scegliere i linguaggi sempre diversificati aiuta sicuramente a comprendere probabilmente quelle che sono le vicissitudini che potrebbero riaccadere. C'è un calendario dettagliato? Assolutamente sì, il premio borsellino.it è il nostro portale di riferimento, unitamente a quello di Officina Legalità e a tutti i canali social, perché molte di queste manifestazioni saranno possibili da seguire anche in diretta streaming, e pertanto vi invitiamo a partecipare con noi in quello che è un esercizio fondamentale per conoscere, per riflettere ancora una volta e per far sì che tutte queste cose non accadano più. Non solo giornata della memoria, ma anche tanto altro ancora, perché la macchina organizzativa va avanti. Sì, il premio borsellino non si ferma mai, non arresta mai il suo esercizio di formazione, sempre volto a una nuova cultura della legalità. Pertanto gli appuntamenti sono tantissimi, ultimeremo il 2 di febbraio questo appuntamento con la Shoah per poi imbatterci in un altro tema che è quello del bullismo, per poi arrivare alle commemorazioni del 21 marzo e del 23 maggio. Pertanto vi invitiamo a seguirci e insieme possiamo cambiare anche solo un pezzettino la nostra società.